male morti mulligan male morti mulligan never midick never fucking midick mazzo dogissimo vero Mirko? troppo dog comunque da quando ci siamo messi gli occhiali ci siamo trasformati le cose giuste un buon mulligan e porca puttana appena abbiamo detto mazzo togo bello qua là che cazzo mulligan a 4 appena arrivato meliador tra l'altro teniamo 4 posso dire appena arrivato meliador o non posso posso o non posso no questa non va bene va bene mulligan a 4 va bene mulligan a 4 si fanno pubblicità occulte di altri giochi chi si permette Dario? chi si permette? a più dopo Pino tre le due saghe? no no non sappiamo contro cosa giochiamo teniamone una saghe perché te fai due saghe? vuoi una? no lo sei giusto con la saga ci mettiamo la monoterra in cima che non c'è mi sa che devo bestemmiare facendo sforzi di petto come Lucio Dalla facciamo così li togliamo entrambi penso che vogliamo il mana discast forte contro di lui lui gioca a izat tempo questo è molto forte contro di lui se è molto forte contro di lui probabilmente me la rischio mi tengo miscast in cima pesco due adesso è troppo forte vai te la balata da un orecchio qua ci serve mana blu facciamo adesso sfetch si una del saga in the wall possiamo fare questo anche fare questo non è male mi sembra meglio per la mano a 4 che abbiamo mi sembra più forte vanno bene probabilmente entrambe mi sento al sicuro con questo in mano sul sul drago sul drago maledetto abbiamo sul drago abbiamo abbinato la crow war però ci avrà counter quasi certamente sfetchiamo yay gear passa c'è ora almeno frostbite the old multiverse come si counter come si countera qua non è qua easy counter per forza se può fare terra drago male se c'è il counter settato qua sotto deve fare doppio sparo male male brutto brutto bruttissimo no provo della confusione sto provando provo sono confuso abbastanza da colpirmi da solo probabilmente se me lui prende qua se faccio questo se lo voglio fare fare sicuramente questo se para sono contento in realtà perché perché pesco para pesco buonissimo ricco miscast certo non fare questo è triste potrei fare shutter school smashing da qui voglio cosa isola se non mi esce l'isola però oddio fare anche brazen borrower quando io spendo tre lo faccio qua prendo sempre l'isola squash squash non era male drago che grusso già bei danni sono questi amico mio vediamo chi vince prima guarda che non ho detto che vinci prima tu amico mio dovresti perdere addirittura prima di me per il fatto che ho questo che sembra molto forte ma proprio assai forte un po' Grazie a tutti. Faccio prima dell'attacco. Eh ma non basta questo amico mio. Mi dispiace. Non basta bro. Mi dispiace. A questo punto ci possiamo concedere anche questo. Probabilmente è buon Crusher. Secondo me sono 6. Vai caro. Grazie per il follow. Sublerk. Svariati danni. Svariati mana qua. Abbiamo Frostbite qua sopra. Fuori di Fone 4-4. Sono Lethal. Si chiamano. Si chiamano danni letali a casa mia. Tesoro. Tesoro. Purtroppo è successo. Eh purtroppo continua ad essere successo. Se faccio mullà 4-inza vuol dire che questo mazza. è una merda ingiocabile proprio. Si chiamano che questo è un po' scarso sta mazza. Ricco squash. Potevo spararmelo mentre ce l'avevo io. Top. Che palle. Frostbizio. Ha tenuto pure. Malissimo che ha tenuto in mano. Sai che cazzo c'ha? Portello. Godzilla vai. Vinci per noi. No Godzilla. Ma che basta. Basta. Devo buscare un buon crusher da tirargli in bocca. Appena avete detto vinza perza. Cioè. Da vinza a perza in 3 secondi. Terra persa. 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 Via fuori. Ciao. Persa. Peccato. Peccato. Peccatissimo persa così. Da vinza a perza. Un po' sfiga Delmo. Un pochino. Un tanto. Combo. Una combo. Delmo più Meliador. Vinza a perza. Speriamo che non abbia di Fone. Morto di Drago. Ancora non è morte. Per prendere questo vuol dire che tipo un buon crusher giant per giocarmi questo. Ah no. Non è un cazzo in realtà. Deve bloccare. Sior Cosmi. Cers è detto anche. Sì. Non ha niente in mano lui. Però pure io. Inutile Miscast. Quasi medio Terra. Guarda guarda. Le prendo Miscast. Non so perché. Però lo faccio. Vabbè. Dobbiamo attivare sta roba. Ah. Possiamo rifare questo. Tanta roba. Tantissima roba. Sior Squash. Vinza. 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 Cioè che partiva incredibile. Miscchia che partiva incredibile della magia. Pazzesca. Pazzesca sta partita. Pazzesca. La 4 vinza. Bravo Delmo. Porti fortuna. Bravo Delmo che porta fortuna. Allora. Ragioniamo. Che bello sto mazzo. Mi sto scialando. Tiger 0. Tiger meno 1. Allora. Wakebringer dal solito mi sembra un po'. Allora mi pare forte. Però mi metterà. Vari counter lui. Stroke mi sembra abbastanza potente. Perché è un terreno su scimmunito. Solo per lui. No. Shadow Sails. Per sparare il cretino volante. Ma. Anche Brazzers ammazza. Forse sì. Forse non voglio Frostbite. Negate. Stroke. Boh. Negate. Boh. Brut. Avrò un War. Costa tanto. Però. Però è forte. Contro di lui è forte. Non è difficile sedare qua. Togliere questi mi sembra troppo lenti. Troppo. No. Squash. Squash non esiste. Li togliamo. Tanto è ripartito qua. Stroke. No. Non penso. Eh però non è male in realtà. Negate non credo. Lo saltranger. No. Iron War. Cos'è se uccide delle cose. Ho lasciato Frostbite alla fine. Ho messo Stroke. Non ho messo negate. 8. 8 non mi piace molto. Counter sul suo counter. A costo 2. Mmm. Molto Spikefield hazard. Stroke è forte. Perché alla fine è una rimozione sul drago. A costo 2. Senza che mette tesori. Quindi questo Stroke è veramente buono. Secondo me è veramente buono. Counter le voglio tutte. Mmm. Con Stroke counter ho pure il pesco 2. Stroke è troppo forte infatti. Negate è triste secondo me. Negate lo vuoi contro Control. Non contro Tempiz. Midrange. Così. Negate lo vuoi contro sul TIE. Contro Rogue lo vuoi? Perché counter in to the story è troppo forte. Dei counterare cose che costano tanto con negate. Dei counterare una cosa che costa 2. Con negate. Dei counterare un ultimatum. Un into the story. Counterare un counter con un counter è una cagata. Con lo stesso costo di mano. Male che ci ha counterato la cosa. Era bella. Abbiamo pescato un botto di terre. Sarà Meletor nei paraggi. Morto. Sì. Glimpse di Cosmos è una bomba a mano ovviamente. Per serio ho fatto salto l'endrop però. Siamo abbastanza felici di ciò. Non è una gran mano questa. Prendermi un altro Frostbite su Bone Crusher non so quanto abbia senso. Però potremmo sfruttare il suo screw. Penso che passo. Andrei fa Brothers. Devo spariamo subito. Devo so che lo spariamo penso subito pure. Beh Glimpse è bombissima ovviamente. Molto forte. Ma anche la saga Rob. Izet non è da buttare. Anzi. Ci avrebbe aiutato assai la saga Izet. Ci saremmo tolti due terre dalla cima. Penso che eravamo felici. Ok buono. Abbiamo trovato l'impiego per il buon Crusher. Ok ottimo Shredded Sails. Più 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 più. Ce l'ha per serio tipo con Mystical Dispute. Dove cazzo devo andare io con Negate? Ci saluta. Come sempre. Sperando non abbia tipo Negate sul mio Shredded Sails. Adesso si fa Drago. Fa Brazzers. Malissimo questa cosa. Penso glielo sparo. Lui era in Scru. Non è detto che abbia il quinto mana qua. Non è assolutamente detto che abbia il quinto mana per fare Gold Span Dragon. Non è detto che abbiamo uno o l'altro in mano. Questo secondo me è il più importante da fare adesso. C'era del 6 lo potevo fare anche dopo. Certo. Dopo che ha attaccato male. Ce l'ha. No non ce l'ha. Bene. E noi avremo comunque un'ottima risposta della magia in mano. Buon Crusher. Fingo doppio counter. Doppio blue. Ci penso un po'. Risolve. Dopo lui potrebbe avere Behold the Multiverse oppure counter. Behold the Multiverse è peggio. Counter è più scarso. Paradossalmente. Ce lo teniamo. Cosa se potete stare a Grown War non sono eccezionali. Cioè ma che a Grown War a me piace perché non... Ruba Drago senza... Terra. Insomma. Non lo so se mi piace in realtà. Poca di soluzioni per Drago in questo mazzo ce ne sono un botto. Non lo so. Non lo so a Grown War contro di lui. Non lo so. Non mi... In realtà non mi convince molto. No non lo scelgo. Potrebbe avere counter poi. Lei è fissato questo ciclo. Io non lo ciclo Wilt Delmo. Io non lo ciclo Wilt. Lei vuole farmi ciclare perché... Però io non lo voglio ciclare questo Wilt. Lo vorrei giocare. Vendo isolozio. Figo. Fine del turno. Buon Crusher in faccia. Successo. Misscast improvvisamente da Ebole mi sa. Chissà se prima o poi riusciremo a tirarlo. Buon Crusher. Sì ma lui ha pure counter in mano. Non voglio sprecarle rimozioni. Per pescarmi una carta. Che schifo. Insomma c'ho a Brazen tipo. Brazers là. E' successo. E' successo. 2. O non fa Drago però. E' forte. 2 mana 4 danni su Drago. Questo lo tengo... Va a finire su Drago questo sempre. A meno che non sono morto. Tipo devo ciclare per cercare una risposta. 8 mana. Buon Crusher. Buon Crusher. Buon Crusher. Boh la rifaccio Sai che ce l'ho Forse riusciamo a fare miscast Tra l'altro Bellissimo prendere questo Che con Agro War gli prendo il Bone Crusher E mi sconto Squash Tanta roba Adesso si fa Brazen di nuovo lui Non so se voglio fare Bone Crusher in realtà qui Non devo sempre rimanere open Di rimozioni varie Forse è un po' Yolo fare Bone Crusher qua Rimango open Sarebbe stato meglio farlo Vabbè Buon Crusher Che palle Ma quanti ne ha pescati? Quattro Ma fatti quattro me ne ha fatti Una donna mia È ovvio che c'ha più carte di me Mi anima niente Eh purtroppo questo Passa Possiamo counterarlo Facciamo perfettamente intorno a miscast Ormai è troppo mana Mi sa che non riusciamo più a farlo Forse ci stavo a spararlo Perché se era un Warboy era un counter Forse qua ho sbagliato Ah invece Forse no Brothers No Sì Può fare Brothers qua Palle Penso che farò squash su Bone Crusher Tipo È pescato veramente troppo Cioè Dove cazzo devo andare? Gli sparo il Bone Crusher Mi prendo due ricchi danni Quella me la riprendo in mano Forse li mettiamo in negate comunque Sì forse li mettiamo in negate È che speravo di giocarla un po' più aggro Se deve andare sul control Alla partita contro il V-Control Sul Valior Dobbiamo contare il Behold Non è bellissimo Però Probabilmente ci sta Peccato Miskast Ma è stato C'è motivo per cui non è sfacciato prima Perché da Da che so io Conviene farlo prima di pescare e levarsi terre Non mi ricordo adesso Bro Non mi ricordo in quel momento Non voglio prendere danni In nessun modo Può fare un Un squat 8-8 L'avversario Ti posso dire la verità Che Agro War Mi fa un po' cagare È poco brutto Secondo me Contro di lui Perché c'ha Brasen Borrower Che schifo è Agro War Contro uno che c'ha Brasen Borrower Terribile Secondo me è terribile Meglio negate Davvero Tettone Giant Do Mario Saper fare gigante Squalo da mille Le mani Vero Bello Io ho delle danni in faccia No Non esiste Beh Buon Crusher in bocca Meglio di Fazeless Heaven Non lo so Sì dai Meglio il buon Crusher Ci saluta Inversario non ha Shard Typhoon Per fortuna Stiamo andando Anche fortuna In questa cosa Lui non gioca a questo Perché non vuole Che gli faccia La Chrome War Praticamente Cioè questo è il suo Il suo problema 5,6,7,8,9,10 11,12 man A disposizione Vuoi fare gigante Vuoi fare tifone Da 10 Io qua faccio Penso Solo tiro Bon Crusher face Fine turno L'ottimo Imps C'è un po' di Imps Potrebbe fare counter Potrebbe fare counter qua Negate Imps into Imps Imps into Imps Mamma mia il valore Valore improvviso Stonks Mamma mia Glimps into Imps Squash 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 Faseless 7 Anche Faseless 7 Pusha per uccidere L'avversario Squash pure È bello Sai che non lo so Fasera è a 7 Vorrei provare a vincere Non voglio essere A meno troppo Frettoloso Però Squash è forte Doppio squash Prendo squash Potrebbe fare Tifone Da 20.000 Adesso E mi fermo Posso fare Doppio squash Su tifone 20-20 Morto Buon Crusher Bocca Preso Posso fare Squash E risquash Sui buoni Crusher Terra Prendo ricchi 2 Posso così Un ulteriore Squash Proprio outplayed L'avversario Outplay Outplayato Di brutto Male proprio Niente proprio Di vale Abbiamo battuto Di value Alla fine Pescavo molta terra A un certo punto Vai Inza Così 2-0 secco E ciao Inps è sbroccato Sì Inps è veramente fortissimo Inps è incredibile Veramente Quante tasse Contributi Che ti fa pagare E Lei è la pensione Praticamente No Tu inps paghi Inps Paghi un sacco Cazzo Non ne frega E poi però Capito Ti fa pescare Un sacco di carte Pinta 2-0 Ciao proprio Cioè questo mazzo È più forte Di quello Quindi Veramente Stai dicendo Vediamo che percentuale Brutta Mythic Ladies and gentlemen Mythic Col mazzo giganti Chi l'avrebbe mai detto Questo va dritto Su youtube Questo video Ha pescato tante terre Perché ha fatto Anche 3 behold Sì tra l'altro Non ci ha mai fatto Un drago Io non capisco perché Magari lui ha pescato Più terre Guarda Meliador Come si Intrufola Per cercare di Distruggere Questo momento Di bellezza No scusami Io ho Quante carte Ho nel mazzo 30 30 carte Nel mazzo Lui ha 27 carte Nel mazzo Ha pescato solo 3 carte in più di me Alla fine E ha 5 6 7 8 9 10 11 12 13 terre In gioco Io ne ho 3 4 5 6 7 8 9 10 10 In gioco Però lui ha pescato 3 carte in più Io ho 3 terre In meno di lui Ma lui ha pescato 3 carte in più di me Ci sono pure I fable passage Eh 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 Signor Meliador Conta le fetch Giusto Va bene Va bene E allora direi di dare un'occhiata Al mazzo Adesso Sempre per gli amici Di youtube Che Staranno vedendo In questo momento Questo video In maniera assolutamente Famelica E fagocitante Vogliosi Di giganti Finalmente Abbiamo un mazzo gigante Da poter giocare In constructed All'incirca Mi sembra Mi sembra Vinza di value Ho capito Abbiamo vinto di value Alla fine Quindi Gigante Carlo Abbiamo chiamato Gigante Carlo In onore Della dea Nostra Ovviamente Di questo canale Sia youtube Che twitch Nonché Melina Che si mette in formazione Gigante Carlo Sul letto Possiamo vedere un pochino Questo mazzo In cosa consiste Quindi Quindi Allora E' un izet Innevato Sostituisce Praticamente Tutto il pacchetto Classico Dell'izet tempo Con le avventure E lo sostituisce Lo fa molto bene Con i fottutissimi Giganti Quindi Ci sono delle carte Basiche Che si giocano In questo deck Uguali a quelle Ma in realtà Sono veramente poche Abbiamo soltanto In comune Frostbite E bonecrusher giant Poi per il resto È completamente diverso Il mazzo Il mazzo in questione Ottiene una rimozione Incredibilmente forte Due mana Sei danni Che è tantissimo Cinque mana Sei danni E' ingiocabile E' inguardabile Ma due mana Sei danni E' pazzesca Pure su placewalker Cioè è una roba Cioè è la rimozione Più forte In assoluto Possibile Immaginabile Tutte le volte La gioia a costo due E sei pieno di giganti Effettivamente Non è una cosa Così difficile Da riuscire a fare Tra l'altro Tra l'altro È spesso e pulentieri Overdamage Overdamage Con Jäger Meister Si pesca Vabbè I bonecrusher giant Ovviamente Sono immancabili Poi ci sono due carte chiave Della nuova espansione Della magia Calde Importantissime Che fanno girare Il mazzo Molto bene Oleano gli ingranaggi Di suddetto deck Quindi Inps De cosmos E invasione Dei giganti Questo è un peschino Che Brutto Due mana Cioè Un peschino classico Quindi brutto A costo due Cerchi Guardi le prime tre Peschi una carta Bruttissimo Il fatto che tu lo possa rifare Però E tra l'altro Ha un costo Ha un costo scontato Di uno Lo rende incredibilmente forte Incredibilmente forte Perché con una sola carta Peschi due Peschi due E In più lo fai anche In maniera intelligente Perché stai Non peschi una carta E basta Guardi le prime tre Selezioni Quindi fai card selection Card draw Con una sola carta Ovviamente devi avere Un gigante in gioco Per poterlo attivare E vabbè Hai un sacco di giganti Poi invasion of the giant Ha anche altra carta ottima Infatti mi piace Questo split 3-3 Scraire due Ti può far tenere Anche nelle mani Un po' di merda Con solo due terre Quindi Due terre In invasion of the giant Tieni tranquillamente Poi La carta che tu hai Speso Per scragliare due In pratica Te la ricicli Perché Il secondo capitolo Della saga Ti fa pescare Ti fa infliggere due danni Ecco infliggere due danni Non serve quasi a niente Però Buttali via Buttali via Soltanto un avversario O un place walker Però il fatto che Spari anche Place walker È interessante Non per ora Perché non si giovano Moltissimi place walker Però in generale Ecco In quel modo È veramente forte Se spari un place walker E poi il terzo capitolo In pratica Ti sconta Un gigante Di due Un gigante Grusso Brutto Ad esempio come Quickbringer Lo puoi lanciare a costo tre E fa la sua porca figura Ti fa fare delle combo Interessanti Questa carta Ti fa fare Gigante Per esempio E più sparo Turno quattro Posso fare gigante E più sparo Faccio questo Turno due Turno tre Non lo so cosa faccio Faccio uno sparo Sulle sue creature Turno quattro Sconto di due Tectonic giant Sconto di due Calamity beer Faccio lui Più squash Posso sparare sei danni Però un elder Gargaroth E muore Poi c'è Mega Godzilla Interessantissimo Questo è un po' a culo È bello che costi Tre mani in colore Quindi non soffre Il color screw Ed è sicuramente Un gigante Che sconti di due mana E puoi lanciare a costo uno In follow up Post Invasion of the Giants E se sculi I segnalini giusti All'inizio è molto forte Soprattutto contro control Se becchi subito Xproof E tanta roba E comunque Lasciato lì È un tre mana Tre tre gigante Quindi che sinergizza Benissimo con il deck E se lasciato lì Un paio di turni Può succedere di tutto Cioè può vincere da solo Diventa ingestibile Contro un mazzo a creature Soprattutto Poi abbiamo Agro War Che è praticamente Una sorta di rimozione Contro i pezzi grossi E l'avversario Calamity VBR Che è il Torbran Del deck È il grassume Che ti fa fare Un miliardo e mezzo Di danni Tectonic Giant Altra carta È veramente fondamentale In questo deck Se ne giocano Soltanto due Perché non vuoi Perché questo è più importante Di questo E non vuoi troppi costi Quattro Per un problema di curva Però questo è veramente forte Specialmente contro control Perché fa un sacco Di valore Tutte le volte che viene Anche targettato Praticamente Peschi uno Con card selection E questa cosa è molto Molto forte E tra l'altro Scomba benissimo Un Calamity VBR Con l'effetto Un altro Di Calamity VBR In gioco Facciamo sei Ne facciamo dodici Di raddoppi Due volte Oppure se ne hai tre Raddoppi tre volte Quattro volte Poi abbiamo gli squash Ne sono le rivoluzioni fortissime Ne abbiamo già parlato Quakebringer Carta interessante Per attaccare i mazzi Di controllo Anche dal cimitero Ci sono delle partite Che puoi vincere Praticamente Solo ed esclusivamente Così controllando E sparando dal cimitero Con Quakebringer Cosa che puoi fare Raddoppiando il danno Con Calamity VBR Cioè se hai doppio Calamity A terra Questo qua nel cimitero Fa sei danni Anzi no Ne fa otto Scusa Fa due Quattro Otto Non aggiunge due danni Come Torbran Faceless 7 Carta fortissima Ovviamente Ma ne è nevato C'è Ed è un gigante Quindi ti attiva Varie cose Poi abbiamo la sideboard Stroke Negate Vi control Ovviamente Sign del plasma Contro aggro Shredded Sails Contro Monored Oltre Z Tempo Spari Spari il drago 4-9-4-2 Principalmente Sempre contro Contro mazzi da creatore Agro War Sempre contro mazzi da creatore Ox Sia contro Rogue Qualora ne doveste incontrare Ma sono completamente Stati cacciati via Dai mazzi aggro Monored E monowhite Da Gruul Io Onestamente L'ho provato E l'ho utilizzato anche contro Sultai Ultimatum Mi sembra una buona carta Da inserire E questo signori Che è il mazzo gigante carro Melina Spero abbiate apprezzato Questo deck Questo gameplay E che anche voi Mentre lo giocate Vi posizionate Nella Nella posizione Del gigante carro No Questo non è il gigante carro Che conosciamo Però Questa ci aveva portata di mano E Chi si contenta Gode Così Così